L'unica proposta percorribile per salvare i tribunali minori sarebbe stata quella di approvare l'emendamento che nel novembre 2015 è stato presentato nella legge di stabilità, successivamente bocciato. Lo afferma l'onorevole Fabrizio Di Stefano dopo l'incontro svoltosi a Pescara sulle circoscrizioni giudiziarie cosiddette minori dell'Abruzzo. Io contesto l'utilità di quella riunione dove non è uscito nulla e dove si è chiusa la stalla quando i buoni sono quasi già scappati perché la legge è in monti del 2014 e oggi si dice che a due anni e mezzo di distanza che è il Parlamento che deve intervenire io dico a questo centrosinistra che si assuma tutte le sue responsabilità perché mai come in questo momento il settore giustizia l'Abruzzo è o dovrebbe essere fortemente rappresentato avendo un sottosegretario a cui aspico la riconferma e il vicepresidente del CSM ruoli importanti e quindi li facessero valere. Ma se dicono, come hanno detto, che deve essere il Parlamento a intervenire allora io dico loro che per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda sono già intervenuto. Nell'ultima legge di stabilità io ho proposto un emendamento che andava nel senso del mantenimento dei tribunali minori come poiché nel decreto Monti si prevede una deroga una deroga per quelle realtà i cui comuni o regioni si accollassero i costi dei fitti della manutenzione delle strutture e del personale. Ecco io toglievo i costi del personale che comunque essendo personale ministeriale comunque resterebbero a carico dello Stato anche in caso di soppressione di questi ospedi di questi enti e di queste strutture e lasciavo ai comuni e alle entità regionali i costi giustamente di locazione e manutenzione.